Allora, due parole veloci per chi fosse stato in una caverna fino adesso. L'Ice Buggy Challenge è una catena promossa dall'associazione americana ASLA al fine di raccogliere fondi per la ricerca contro la sindrome laterale amiotrotica. La regola base di questa catena sta nel fatto che se viene nominato devi donare 10 dollari e prenderti la secchiata oppure donarne 100 e devi darla. L'acqua ghiacciata si usa come metafora dell'intoppedimento dei muscoli che è l'incipit di questa malattia che porta alla paralisi totale del corpo tra il cervello che rimane vigile. Il marketing di questa iniziativa si è dimostrato talmente vincente che sono stati raccolti tre volte tanti soldi rispetto all'anno scorso nello stesso lasso di tempo. Quindi ognuno può pensarla come gli pare, che è una moda, che è un modo di esistirsi però secondo me non ci stanno canzi che tengono e quindi io appoggio l'iniziativa e vaderisco volentieri dopo la nomination della gentilissima Sara Vigielli. Ho già donato sul sito asla.org quando ancora le settate si aiutavano solo gli americani però potete donare pure sul sito asla.it. Le mie nomination sono Michele Postini e tutti i ragazzi della BAO Mike Harry, Tim, documento del decimo dottore, Andrew, Nick e Alius. Tre nomination speciali, Antonio Micioli, Scuole Gualano, tutti qui presenti al mio video. Donate a prescinde e vai, vai porca!